provo a farla salire sul tatami con te vediamo quanti secondi rimane cosciente ste pagliacciate da due ore a cintura rovinano le arti marziali serie e sfigurano i professionisti che si fanno il mazzo come te per ore giorni settimane mesi e anni e anni cari amici benvenuti a questo nuovo format che già vi anticipavo all'inizio della settimana in cui prenderemo un po in giro diciamo tutti gli haters che hanno intasato il post di michel unziker che ha conseguito appunto ha sostenuto l'esame di karate kyo kushinkai e quindi insomma leggeremo un po tutti questi commenti idioti ovviamente mantenendo la privacy degli utenti non facendo nomi e nulla di tutto questo spero che questo nuovo format vi piaccia abbiamo già iniziato con un commento un po come gli spermini di boban peso questa è una versione marziale di spermina la riscossa e quindi insomma proseguiamo con i commenti ovviamente solo i commenti prenderemo in considerazione solo i commenti degli haters forse non ha capito il senso del mio commento essendo una disciplina nobile e beh sì il karate è nobile però non abusiamo di questa parola quando non sappiamo di che parliamo ok non dovrebbe prestarsi alle pagliacciate di regalare cinture gradi ad katsum vedi anche quella data a brunetta allora io vorrei far capire a questo intelligentone che comparare la cintura nera primo dan che la filca ma data brunetta con quella di michel unziger che invece si è sudata con un esame davanti a uno dei più grandi esponenti del karate kushinkai che è shihan wakiuchi allora io devo dedurre che tu insomma di karate non è che ne capisca molto anche perché questo regalare cinture gradi ad katsum non mi sembra perché vi ricordo che michel ha sostenuto un esame regolarmente ed è stato anche un esame tosto quindi allora vediamo ecco vedete per esempio qui c'è un commento che dice sì sì due cinture e mezzo in un corpo ero stato abituato a forse una ma altri tempi o ma come già detto è solo un mio pensiero e d'altronde abbiamo brunetta cinture nella prima donna di judo perché perché ci si ostina a commentare a paragonare due situazioni completamente diverse cioè io veramente non non ho parole guardate mi sale il sangue al cervello quando leggo queste cose ah dio mio allora e poi le unghie sono troppo lunghe per le arti marziali michel unziger dicci come fa i nostri maestri hanno sempre preteso unghie rigorosamente corte vabbè sì è vero in effetti che nella nella cura diciamo di un marzell di un artista marziale ci sia anche diciamo avere delle unghie corte delle mani dei piedi appunto per evitare spiacevoli colpi d'incontro con i pugni e i calci però è vero che michel è una donna di spettacolo ma io penso che abbia ovviamente un abbigliamento come normale per lo spettacolo e uno per il karate cioè non è tanto difficile da capire mio dio cioè veramente certa gente proprio apre bocca e li da e li da fiato o per esempio qui c'è qualcuno che dice senza dubbio meritato ci ha un wakiuchi non regala nulla a nessuno o finalmente 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 qualcuno che ecco che dice qualcosa di sensato ehm 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 allora allora ehm 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 ecco ecco qua c'è uno che dice io forse non conosco il nome ma lei non conosce l'italiano scusa e il discorso che gli ho scritto il concetto che volevo farle capire ma vedo che risponde sempre cercando di distogliare l'argomento principale mettila mettila una cazzo di virgola mio dio che se no mi devo allora ehm ps se hai pienamente ragione in passato in passato non era importante effettuare lo scritto ma raggiungere con passione e sudore lo step successivo senza scorciatoie ma dove sono le scorciatoie? cioè secondo voi secondo voi secondo voi michelle ha utilizzato delle scorciatoie ma di cosa parlate? cioè perché parlate? perché aprite bocca e date fiato? ehm poi vabbè se no sei ante basta basta sempre e continuamente esibirti beh peccato che michelle sia una donna di spettacolo per cui che cosa dovrebbe fare se non esibirsi? eh? dai dai ci si può arrivare a questo ragionamento su ecco sono d'accordo l'unica cosa che non capisco perché due cinture oh madonna che pa- ma allora se uno non conosce i i i come dire i i i gradi del kyokushin e poi comunque ci saranno dei motivi no? magari se sono dato qualche cintura anche per meriti eccetera state zitti cioè e infatti c'è uno che ha risposto brutta bestia l'invidia e beh in effetti beato te che puoi giocare come vuoi non devi pensare a comandare avanti ogni giorno eh certo non devi pensare come deve andare avanti ogni giorno certo mi sembra ovvio ehhh dopo la cintura bianca non dovrebbe esserci la gialla? domanda legittima se non fosse che lo ripetiamo il sistema dei gradi del kyokushinkai è diverso dal nostro dello shotokan oppure dello shitoru eccetera quindi le cinture torniamo a ricordarlo sono invertite ok ehhh 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 le cinture indicano che è assimilato e conosce delle tecniche e non che è la campionessa della palestra giustamente poi per crescere ancora e diventare forte servono i match in tutte le discipline oh meno male che c'è qualcuno che 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 mette i puntini sulle i sapete qual è il problema? come dico sempre io no? ci sono nel mondo ma soprattutto in Italia nel web troppi 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 leoni da tastiera e la cosa bella è che questi giudicano senza nemmeno conoscere il percorso di Michelle senza neanche sapere come è arrivata quella cintura quanti sacrifici ha dovuto fare quanta fatica per cui veramente c'è gente che io dico se qualcuno non conosce il percorso per favore fate silenzio ok 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 adesso chiudiamo questa prima puntata con l'ultimo commento che che io non ho capito onestamente sicuramente sicuramente ti vedremo agli olimpiadi quali che il karate ha fatto solo Tokyo 2020 anzi 2021 e poi è stato escluso da Parigi 2024 quindi quali olimpiadi non si sa non sei capace di non arrivare al primo posto in tutto ah vabbè ok questo è un complimento a Michelle però io non capisco ti vedremo agli olimpiadi ma quali olimpiadi se il karate non c'è cioè non ho parole ok mi sembra sufficiente per oggi poi domenica prossima vedremo un'altra puntata raccoglierò altri commenti ovviamente come già specificato non sarà allesa la privacy di nessuno e niente ovviamente farò tutto in forma anonima nel senso senza citare nessuno però capite che ci sono certe cose che veramente io non certi commenti che veramente io io mi chiedo ma la gente perché non fa altro invece perdere tempo in queste cose comunque io ho concluso questo mio video di oggi se il video vi è piaciuto mettete like commentate e condividete se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo domenica prossima con altri commenti e poi magari nella settimana magari usciranno fuori anche altri video io vi ringrazio per la vostra attenzione 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 úde